Cinque stelle vedrai, ci vediamo tutti insieme al Polbar Si è fatta male, signor Pol, bentornato! Posso fare il baciamano? Che schifo, ma lavatesi dei denti? No Forza, un filo interdentale, forza E dove è stato? Ce lo dica, dove è stato? Sono stato a Rimini Rimini e Riccione No, quella è Riccione C'era anche la canzone, o stai a freggere in Rimini e Riccione Se ricorda, è Riccione, non è Riccione Eh, vabbè, abbiamo capito, lei viaggiando sempre in giro per il mondo Anche se riesce a viaggiare benissimo stando fermo, Lemi Mi viene di un bel... Anche a me piace, anche io amo viaggiare Ah, bene, sono contento Saluto mio nipote, benvenuto Ma che dove è stato ultimamente? No, da nessuna parte, mi piace viaggiare perché io voglio arricchire la mia arte culinaria E cosa si crede, bello? Certo, è importante Mi piacerebbe tanto andare a Madrid e imparare a fare le torte Ma che a Madrid le torte? Le torte devo farle anche qui in Sardegna, in Italia Sì, vabbè, ma come fanno il pan di Spagna a Madrid? Ma cosa sta dicendo? Questo gioco di parole, questo giro di parole Oh, che bello! Ma non può capire lei No, eh sì, non posso capire Non può capire perché non mi piacerebbe per dire andare in Cina Andare in Cina e imparare a fare il riso alla cantonese Ma è importante Però i cantoni me li porto io da casa che mi piacciono di più E visto che periodo? E visto che periodo? Anche imparare a fare gli involtini primavera Non è male, non è male Senta, sushi? Sushi? Sushi lei che è meglio No, il piatto, sushi Ma cosa sta dicendo? E perché non mi piacerebbe? Adesso me la toglie una curiosità Mi che mi si è piazzata qua proprio su Sta scherzando signor Prol Prol, ha scorreggiato? Pol, no, no, Pol, no Prol Non mi sputti in faccia che è schifo che l'alito è pezzinoso E ne stavo dicendo Mi ne stavo dicendo Cosa? Ma perché in America mangiano la carne di cane? Di cane? Ma cosa sta dicendo di cane? Gli hot dog No, ma non è possibile Cosa sono gli hot dog? Scusi, gli hot dog è un'altra cosa Viuster, c'è la sera Viuster, lei è fissato col viuster Allora vedi che c'ho ragione che non è andato a Rimini Ma no A Ricchioni Ma no, sono andato a Rimini E la salice A Rimini Gliuster, Senape Ma vada, vada Ma non capisce niente Che non ne può capire lei E comunque io sono stata in Africa E ho scoperto che in Africa Ci hanno copiato un piatto Sì, quale? Il couscous L'abbiamo inventato noi in Sardegna Ma guarda sta dicendo il couscous E allora Perché come si fa il couscous? Il couscous, basta che fai la mista e fagioli prima E poi vai con il couscous Lasci fare che è già vera la cosa Altro che gli africani sono innovativi Di gomma E comunque guardi Non può capire la novità E che quest'anno voglio fare il ricettario Il libro delle ricette Di signora Rosina Oh complimenti Brava, brava Brava signora Rosina E allora Quando venderemo tutti i libri L'incasso verrà devoluto interamente Sul mio conto corrente Ma no Ma scusi Ma perché? Allora non c'è niente di Non c'è niente di Ma insomma Non è che devo cucinare gratis Per tutto il mondo Ma lei chi è? Paul Paul Guardi che l'Alzheimer mi ha invaso completamente Sono accorto E comunque guardi Esci che devo andare Mi piacerebbe fare un bel piatto anche oggi Quale? Stavo pensando Taglionini con i piselli Bello Come si fanno? Se mi presta i suoi Tanto sono piccoli Arrivederci Arrivederci Comprate il ricettario Arrivederci Arrivederci Cinque stelle Vedrai Ci vediamo tutti insieme Al Paul Paul